segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e che posso dire l'amberto dina parte che a casa lo conoscete tutti e non ha bisogno di presentazioni però ricordo per quei pochi distratti che è stato presidente del consiglio è stato ministro degli esteri e del tesoro a lungo ai vertici di banca italia è appena tornato dal giappone io vorrei parlare solo di questo ha 91 anni ed è appena tornato al giappone 12 ore per andare 14 per tornare una decina di giorni la trovo molto in forma presidente ma non c'è male cerchiamo di andare avanti c'è un altro dettaglio sulla biografia del presidente dini e che a differenza di giorgia meloni che ha sempre ricordato le sue umili origini e le ha fatte come dire ne ha fatto un brand il presidente dini che è figlio di fruttivendoli di firenze fruttivendoli di firenze nell'italia del novecento è il vero esempio di che cos'è l'ascensore sociale c'è una persona che non è che andava a raccontare non è che dire dice io sono figlio di fruttivendolo guarda dove sono arrivato no non l'ha mai detto a nessuno cioè non è mai stato una ma con una però io voglio dire questo perché allora il presidente di noi siamo andate a trovarlo chi ci segue lo sa siamo andare a trovarlo a casa sua lui gentilmente ci ha ospitato e insieme abbiamo visto il discorso di insediamento di giorgia meloni e lei in quella circostanza espresse un giudizio positivo sì anche mi ricordo anche sul passaggio dell'underdog cui faceva riferimento parenzo no cioè io sono quella che doveva nascere doveva avere un certo tipo di percorso ne ho avuto un altro sono qui francamente non mi sembrava che giorgia meloni adesso lo dico perché poi ognuno ha avuto ovviamente di quella di quel passaggio si è fatto la sua idea mi sembrava semplicemente che lei lo dicesse come un fatto cioè io sono nata in una condizione non particolarmente fortunata sono contenta e sento tutta la responsabilità oggi di essere un'altra cosa lei come l'ha letto quel passaggio ma molto positivamente devo dire due cose che giorgia meloni ha detto in chiusura del suo discorso è che c'è un pregiudizio contro di noi cioè dire noi di fratelli d'italia e quindi io sono qui per contrastare e sconfiggere quell'opinione e quindi e quei pronostici questo è quello che ha detto nella sostanza mi pare bellissimo ok se giorgia meloni a stoffa questo se si guarda all'intero governo è certamente la persona che impressiona di più per il suo carattere la fermezza la capacità allora però oggi c'è consiglio dei ministri si comincia fra un po adesso siamo nella fase del pre consiglio lei potrebbe spiegarlo a noi come funziona e ce n'è stato un altro prima di questo nel quale al centro dell'attenzione ci sono le questioni economiche cioè la nadef bisogna mettere a posto capire fare la cornice di come verranno poi spesi i soldi per il futuro nella legge bilancio e arriviamo a questo consigliere ministri quello in corso ma ce n'è stato un altro da quell'altro consiglio dei ministri sono venute fuori due norme su cui io voglio la sua opinione una la norma anti rave se quando l'ha sentita l'ha letta perché immagino se ho capito bene che lei l'abbia proprio letta che le sembra ma è una svista è un errore è una misura identitaria era intesa riguardare soltanto i raduni rave poi invece il linguaggio in quelle del disegno di legge scusi in quel decreto si prestava e si presta a interpretazioni estensive e questo è stato un errore allora com'è che si fa entrare in consiglio dei ministri un provvedimento che non è stato vagliato attentamente da un giurista e in particolare dal capo dell'ufficio legislativo io in una ultima intervista avevo sulla base della mia esperienza avevo suggerito al presidente giorgia meloni di assicurarsi di avere a palazzo chigi un giurista di grande di provata competenza come capo dell'ufficio legislativo però presidente mi perdoni in quel consiglio dei ministri c'è seduto anche nordio a parte ci sono altri giuristi piante dosi è un tecnico piante dosi è un tecnico cioè allora può accadere una svista di quel tipo quando a quel tavolo ci sono sedute quelle persone non deve non deve accadere in ogni caso il vantaggio del capo dell'ufficio legislativo e che non deve rispondere a nessuno soltanto di mandare provvedimenti che siano inattaccabili dal punto di vista giuridico in questo caso era attaccabile perché il linguaggio che hanno usato si presta a interpretazioni estensive quindi è anche una riunione sindacale ma sbagliano quelli che pensano che più che un errore in realtà sia una indicazione tradisca la preoccupazione di proteste di piazza che potranno arrivare questo non lo posso credere non lo posso credere anche perché nelle dichiarazioni che giorgia meloni ha fatto ha detto che lei vuole sempre difendere la libertà di espressione anche sulla faccenda universitaria vi ricordate come no ecco esattamente lei ha perfettamente ragione però giorgia meloni guida un governo politico no sì quindi forse dalla sua esperienza che invece diciamo ha guidato governi tecnici diciamo questo governo politico in cui siedono dei tecnici però forse quella componente identitaria la vedremo sempre più spesso no questo è forse un po il tema guardi ci sono materie sulle quali questo può succedere ma insomma oggi Giorgia Meloni è stata a Bruxelles ha visto queste autorità il prestigio del governo si gioca sugli aspetti economici in particolare sulla nuova legge di bilancio cioè quella è la partita è lì che si deve misurare è lì che deve riuscire io mi auguro che sia un provvedimento diciamo giustificabile eccetera perché questo è il solo governo di questa legislatura non c'è alternativa a questo governo allora dovremmo tutti avere interesse a che questo governo faccia bene perché se fa male le conseguenze le paghiamo tutti noi allora aspetti un attimo